Buongiorno raga, allora bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog Allora sono 7.18 l'orologio E 10 minuti fa circa mi scrive mio amoroso E mi fa, guarda, c'è il palmare a casa? E io dico, sì, portamelo, grazie al cazzo, vabbè E... Quel palmare Sempre spaccato ovviamente, sempre Adesso vado a portarlo Alla sete Bertolini in macchina Anche se vorrei evitare di uscire perché sono malata E... Non vorrei peggiorare, insomma Il raffreddore Vabbè Ho preso tutto Ah, le chiavi Le chiavi, le chiavi Dove sono? Questa qui è la chiave Bene Ho preso tutto e possiamo andare Veramente Io che volevo ancora dormire Ma dai I miei dubal Bella raga Allora sto aspettando il mio ragazzo Sono Susa Sto aspettando il mio ragazzo perché Deve venire con me perché così dopo posso prendere Le macchine Sto aspettando il mio ragazzo C'è una Sì Sì Puiu Puiu Mă pui mă Puiu Ce vrea să sară? Să sară din sus Derebedeule ai crescut Uite mă a crescut ăsta Puiu 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 Una padella, una padella allo scodello, più in cosa la metto io, adesso sono qua, facciamo questo dai, voilà Ho, 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 ho Ho, 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 ho Buon pomeriggio Cos'è? E allora, sono alle 2, 10 minuti, ho mal di testa raga E adesso io sto andando con mia mamma a fare la spesa E prendiamo il ketchup, intanto buttiamo anche il vetro e la plastica ho già prendo sinceramente non ho mangiato tantissimo avevo mangiato due polpettine e basta non lo so, lo stomaco è chiuso veramente non no